Ciao ragazzi, qui per Anormal Comics Oggi continua la super challenge e sfruttiamo un vostro consiglio molto utile, molto carino purtroppo non ricordiamo il commento ma seguiti questo video, insomma commentate qui sotto e dici che sei stato tu chi trova più giocatori con la palla tra i piedi nell'immagine in movimento vince un punto, tra i piedi in senso lato, diciamo nella foto deve esserci nella foto il pallone se non c'è il pallone niente punti se c'è il pallone avete un punto, molto semplice quindi ci prendiamo i soliti, tre pacchetti più l'aggiunta, se serve la nostra mega challenge come sta andando? Sì, sta andando che Alessia è ancora in testa con otto vittorie io con sei dietro e Gaetano mi segue con cinque eh, questa è la volta buona che Siamo ti acchiappò a sé, dici? Secondo me è la volta buona invece che vado a affiatare sul collo di Alessia allora, oh raga oh raga, cosa hai trovato? no, ho visto colore viola, lui manca della fiorentina solo il mister ho detto, ah, e invece no, mister del mese ovviamente, lui si trova nei pacchetti e questo qua gli altri si trova nei filetti abbiamo solo dieci mancanti ragazzi e trovarla non sarebbe male Luciano Spalletti, doppia no tre il Cosenza, ma ci mancano delle serie B solo tre giornate di ripisa, pensate un po' la palla a tre piedi non c'è Marco Silvestri non c'ha la palla a tre piedi Scuto del Lazio e chiesa, molto bene, grande oh nice anche se mi smezza dai, va bene vorrei controllare una cosa soltanto una curiosità su Marco Silvestri il fatto che sia la 474 che ci manca? io lo so benissimo perché l'ho attaccato io questo qua, mi mancava il primo portiere dell'udinese siamo arrivati a nove mancanti vi avanziamo una teoria secondo noi nel box da 150 conclude proprio tutta la collezione potrebbe essere potrebbe riuscirci se qualcuno di voi ha preso il box da 150 e a fine tutta la collezione ce lo dica perché boh, cioè è pazzesco stiamo trovando proprio quei piccoli tasselli che ci mancavano è una cosa improbabile a livello di improbabilità statistica però per ora stai perdendo la challenge caro ma hai fatto un punto giusto con Chiesa? ho fatto tutto con Chiesa è vero, sono un punto con Chiesa è vero, sono un punto con Chiesa fatemelo vedere sì, sì, anche se non è l'intero pallone te la diamo per buona te la diamo per buona sei il pallone che gentile tre del Pisa difensori tre del Pisa no raga vediamo, vediamo, vediamo la materia è valida la materia è valida quindi per ora abbiamo trovato due mancanti poi ceccarini dell'Ellas Ibra Ibra ragazzi ce l'abbiamo un punto per tutti un punto per tutti ragazzi un punto per tutti e allora ne devo fare due adesso e come se ne devo fare due ok falcone qui lo mettiamo dai Simo trovaci pure la mancante magari eh infatti chi manca, chi manca ormai la Serie B è finita Benevento ce l'abbiamo finita la Serie B Torino, ragazzi il mister ce l'abbiamo e niente come non hanno la palla a tre piedi wow ragazzi comunque ragazzi non hanno la palla a tre piedi Busio, Busio questo era uno dei pochissimi e se non ci abbiamo doppio sì, è la prima doppia di Busio abbiamo una soltanto l'abbiamo attaccata e ha la palla a tre piedi questa va a tenere infatti c'è pure la palla a tre piedi punto e un'altra palla a tre piedi Giovanni Simeone con numero 183 ragazzi non ci manca ma due punti per me avevo detto che ne trovavo due subito fortunato ragazzi questa volta è quella giusta dici scendiamo a sette mancanti eccolo qua Vincenzo Italiano alla torre della Fiorentina che numero è così la eliminata 114 7 mancanti no vabbè raga no ma lo finiamo oggi praticamente questa collezione quindi Vincenzo Italiano poi per indolino al palla a tre piedi c'è anche questa grafica un po' tamarra dai ci sta con tutto nel piatto è tutto sfocato scudetto del Genoa non ha la palla a tre piedi e Ayan mi fa andare a due ma purtroppo sto perdendo contro Ayan e Sassuolo ecco 404 no no ce la abbiamo va bene Valessia allora vado io con il mio secondo pacchetto spero di trovare i mancanti hai messo l'allenatore l'allenatore devi metterlo nelle mancanti queste sono le mancanti subito e siamo a tre raga di nuovo tre giocatori del Pisa ma tanto ormai abbiamo completato la serie B poi Messias non ha il pallone uno no ancora subito dopo serie B non ci interessa Storaro no penso che abbiamo completato il Genoa ok non mancano vabbè non ha il pallone tre piedi ragazzi tagliare anche vai che sfigale né mancanti né pallone tre piedi vai a quattro punti poi ho trovato due giocatori eh sì bufami bufami tu arrivo a sette punti sì sì bufami come al solito non ti preoccupare la vinco lo stesso io la vinco lo stesso è certo eh niente morata ragazzi morata 238 niente ragazzi ma non è il pallone tre piedi lice li abbiamo Froyler pallone tre piedi mister pallone tre piedi mannaggia dai quest'altro non ce la deve avere quest'altro crotone no ce la sta qui sta qui io lo so sicuro che ce la qui mi piacerebbe Bogdan ragazzi niente 3-5-1 niente ok va bene peccato peccato però ha fatto un punto eh next pack per il momento sono sopra eh Simo ti piace ti piace vincere eh è bravo è bravo vado io con Alexis Sanchez no ce l'abbiamo Sanchez caro 209 mi dispiace ho trovato pochissime volte eh sì sì è poche volte oh c'era il pallone spero come c'è il pallone oddio ma l'ho anche visto io c'ho il pallone ah perché hai il dito sopra ah te è giusto eh mostro pari andiamo sì io ti ho servito te l'alessandria no scudettini e dai ogello valla tre piedi vabbè il pacchetto della vita mannaccia mannaccia il pacchetto della vita fammi continuare io ho perso lo so già scudettini non mancano Alessandria ok no questo è tutto il doppio ce l'abbiamo tutto il resto pallone oh sì ce l'abbiamo il sergente lui manca forse Lorenzi no no ce l'abbiamo gira gira 273 ce l'abbiamo lui l'abbiamo sicuramente però il pallone però il pallone ce l'ha ragà ma sono rimasto solo io a tre punti sì però c'è un pacchetto da me tu sei a cinque sì devo trovarne almeno due sì sì vabbè ma abbiamo un pacchetto extra sì altro round direi senza dubbio altra corsa allora con questi tre pacchetti attenzione finiamo il box bremer col tacchettino il pallone c'è non è manco metà pallone c'è il pallone è più di metà è più di metà è come quello di chi aspettate chiamo il var il pallone c'è è di meno è di meno ok ah già l'ho visto quello dopo oh insegna signori manca e ha il pallone tra i piedi sei mancanti raga questa è una figu storica comunque l'ultima insegna in serie assurda bellissima e sono a cinque pari con te è ho paura che fai Marco Piazza ho paura che fai sei eh consiglicela in mano consiglicela in mano hai messo i piedi no rega no dai dai sei messo il pallone dai no è quell'altro era in volo a voi il pallone dai no 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 hai piedi hai pallone hai pallone facciamo che se sarà una discriminante la consideriamo forse per un eventuale spari mettila in stand by la diamo per metà ok tienete il pallone tra i piedi ok mettila in stand by diciamo vediamo no però no frate mi hai superato comunque zoom dai sti sette punti proprio non li vuoi lasciare no ci manca l'amater del napoli a noi attenzione questa è la prima volta che troviamo la doppia perché ci si abbia solo una max allegri eh c'è spalletti c'è linetti con la palla no e streaker senza quindi pareggio ma comunque un eventuale spareggio perderei quindi attenzione io adesso non le trovo non penso di poter fare molto tre del pisa non c'era sembrava oh immobile 211 no no la palla immobile immobile manca 264 mancante è come abbiamo detto ragazzi il signo e cos'era 312 l'ho segnato però ragazzi le booster quelle da 150 sono finite giusto e mi sa di sì quindi in realtà non è vero no vabbè no però stiamo aprendo adesso ancora quelle azzurre mi sa non sono ancora usciti i codici quindi sì stiamo aprendo ancora le azzurre no dico sono finite queste qui sono finite quindi vuol dire che qua dentro no qua dentro cosa dovrei trovare tutte e 5 mancanti no ne mancano sì 5 vai riescici fra riescici tu dici ci sono le 5 mancanti allora è possibile è possibile perché sarebbero 2 raga affrontiamo la statistica ecco già abbiamo perso perfetto 3 del lice almeno posso vincere questa challenge da merito buono Anzaldi 453 non ce l'ha non ce l'ha ma chi a destra non ce l'ha eeeh Lorenzo Venuti da casa sua ce l'ha 157 Venuti ce l'ha e lo squattino della cremesa allora la teoria non era valida in qualche modo però hai vinto la challenge sì sì ragazzi ho vinto la challenge 6-7 7 e mezzo raga 7 e mezzo ho vinto contro il bar per Luca Busio ci sta anche gli edict ci sta per il zio di mancante ragazzi spacchettamento top e sole 5 mancanti direi che mo ci vuole assolutamente un punto della collezione sì ragazzi lasciate tanto mi piace iscrivetevi se ancora avete fatto e ci vediamo al prossimo video bello e ci vediamo al prossimo video